Su internet Cosa vuol dire dove? Sul sito di internet Prendi la tua contra Si chiama Ocelot F600 Ma dove cazzo bisogna andare? Eh ma io dico che ne vale la pena invece Una bella A me faceva schifo Invece ha visto dorata Che bella Bevi la foto La foto bevi La foto Oh che cazzo Vedi questo palazzo qui è in costruzione Non può rimanere sempre in costruzione Perché? Guarda quando fa la copo con il freno a mano Se il rumore fa Figa 7500 giri Ma tu non stai facendo un cazzo Stai guidando la mia macchina Stai guidando Ma è la mia lezzo No secondo me Prima o poi lo finiranno Il coso per la musica sarebbe Subwoofer Stai già salendo le scale Sali le scale Della gru Della gru Della gru Sali le scale Della gru Con peppa pig I maialini fanno Oh ma la sigla non fa più il maialino Mi faceva troppo ridere quando lo facevo Non è vero Un po' che non la sento Stefano chi mi fa Nonno 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 Stefano chi mi Nonno Ma perché mi hai invitato prima con quel profilo? Mi hai invitato con un altro profilo prima Oh mi sono rotto il cazzo a salire così Ma che cazzo di missione è Tutto il tempo così devo fare? Mi piace anche la nebbia Ma che fai Scusami come faccio ad ammazzare la gente? E' sempre dovuto Chi spara? Chi spara? Vieni qui Vieni qui E' sciocco A terra valigetta Yo yo Chi spara? Chi spara? E' sciocco oh, ancora vivo, maaari mi spara no? eeeh, l'ho fatto bravo fintato, bobo ecco perchè ti sto bello la mia macchina, ma dai ragazzi col cargo bobo ma che cazzo sta sparando? mi dobbiamo fare un messo ma si immagia ma dove come cazzo faccio andare le ultime di qualcosa non sto scherzando qui scommetto che cado giù che messi c'è solo un modo per arrivare dall'altra parte lanciandomi col paracadute che cazzo è fai oggi è mercoledì no no che cazzo fai che culo ti sei preso la valigia E io sono appena salito su Arrivando uno giocatore da combattimento Ma dov'è? E' giù E' qua bellino Si Forse E arriva il missile E l'ha schivato No l'ho preso Ma se mi lancio giù ho perso paracadute vero ormai? Qua una volta ce n'era uno qua su Ecco io camperavo praticamente quando c'avevo la taglia Ogni tanto lo faccio ancora In questo edificio qui al piano di sotto E' qua C'è Bersaglio distrutto Ma cos'è l'errore Nv Quello lì? Si anche a me lo fa Boh non è che si verifica con GTA Ma se lo lancio dal balcone Su telefono Entra Sky Scopri subito l'offerta Nel momento Non perdo l'occasione Rispondo che ti richiameremo In favore Ma vai a fare in culo Amazzati Tu Sky www.nascar.com Me la guardo da lì In streaming Mi scarico anche il video L'altra volta l'ho scaricato Da 4 ore Era il video 8g Tutto in HD No ma ci ha messo po' 8 Ci ha messo tipo 10 minuti In pericolta Tanto che non ho mai tempo Di guardarlo Ma le cazzette Ma ha detto un cliente che abita A Seoul Viene sempre da noi per lavoro Ha detto che da lui le connessioni Sono qualcosa tipo 8gb al secondo E roba del genere E tu pensa che lui qua In Italia Lavora per una compagnia Per le linee telefoniche Come ha detto Per migliorare i cavi del telefono E ho detto E ho detto Lui a dirmi Eh ma voi Mi faccio Siete gli ultimi in Europa Ad avere la connessione così Cioè addirittura La Polonia La Google Se la fare La Spagna La Spagna Che vuole comare la premia Perché loro Hanno una buona connessione Tipo lui c'ha 200mg Ma m'hanno ammazzato Come C'è buona Ma ecco che hanno una buona connessione Loro in Spagna Le cose che ho detto Che Pocchi compagni Ci sono Che ti danno Che danno dei buoni